Sì, ci sono, ci sono, ho dovuto farlo, sono Brilla, ho dovuto farlo, si sarebbe insospettito. Non ce la faccio, non ce la faccio, sì, i documenti li ho presi, li avevo addosso, si muro, ho tanto sonno, tanto sonno, tanto, tanto sonno. Ascoltami con attenzione, Giorgio, tuo marito è appena uscito dal Terminal Da Vinci, sta tornando a casa. Ci metterà una decina di minuti, devi alzarti e sistemare tutto, hai capito? No, non ce la faccio, non ce la faccio. Devi fare esattamente ciò che ti dico, mi hai capito? È rimasta ancora della cocaina? Sì. Bene, ascoltami, voglio che fai un altro tiro, uno soltanto. Ma io veramente ho paura, non ho mai dovuto farlo prima. Non abbiamo tempo, fai come ti dico, ti sveglierà, fai un altro tiro, ora! Bravissimo, bravissimo, è stata bravissima, bravissima, bravissima! Ora fai una doccia veloce Dentro e fuori in pochi secondi e vedrai che ti sentirei meglio Poi sistema tutto Trattieni tuo marito, portalo a letto Poi ci penseremo noi Oddio Poi ci penseremo Poi ci penseremo Pronto? Ciao Sono io Come stai? Tutto bene? Indovina Abbiamo finito prima e ho deciso di partire stasera Tu mani sai che casino Non ti preoccupare Ho mangiato una cosa all'aeroporto Sì sono sicuro No davvero non mi va di uscire sto a pezzi Ma tu stai bene? No perché mi sembri un po' strana Va bene ti aspetto A fra poco Tesoro sta tornando mio marito Devi andartene È stato bello ma devi svegliarti Per favore Cazzo 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 No perché mi sembri un po' strana Grazie per la visione 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 Fa esattamente quello che ti dico Ciao Ciao Che era successo? Non ti ho sentito ora in bagno, scusami Ho sentito sbattere? Grazie per la visione E ora fai piano Grazie per la visione Chi sei tu? Chi sei tu? Hai fatto un ottimo lavoro Ti ho voluto bene Chi sei tu? È finita? Abbiamo tutti i documenti Mi siamo usciti i puliti C'è un'auto a 100 metri da lì Ti riportiamo in albergo a Parigi Domani mattina il tuo aereo Domani mattina il tuo aereo Nessuno penserà mai a te Ti ho finito per la visione Grazie a tutti.